Sanzità, io sono una pecorella smarrita e rivendico dal buon pastore l'obbedienza al triplice ordine dato da Dio, scritto nell'epilogo dei quattro Vangeli nel capitolo 21 di Giovanni, di pascere le sue pecorelle, se egli davvero l'amava più di costoro, ossia di coloro che erano secondi a lui, ma spesso non la secondavano comportandosi da mercenari e non come il buon pastore. Rivendico un primo che sia davvero primo mettendosi in fondo a tutti, a servire tutti, e non al vertice di una struttura di comando degna del mondo, ma non dell'altro mondo, di Dio. Io, essendo un filosofo della scienza, rivendico il rispetto della sacrosanta promessa assunta in nome della fede dal suo santo predecessore, quando concluse il punto 56 della Fides et Ratio con le parole «La fede si fa così avvocato, convinto e convincente della ragione». Nel 1999 quattro sacerdoti e 460 persone scrissero al Pietro di allora questa supplica scritta, scrivendo così Papa «Santità vostra, questo è il caso umano di chi, avendo la percezione che buona parte della Chiesa fideista si oppone ed ostacola le vostre coraggiose decisioni in merito ai rapporti tra la fede e la ragione, a tutt'oggi, lunedì 18 ottobre 1999, digiuna da 32 giorni esatti, cibandosi solo dell'ostia consacrata e bevendo solo acqua. Fa penitenza per il bene della Chiesa perché essa si convinca a seguire le meravigliose decisioni della Santità vostra. Per carità umana, ricevetelo e con urgenza affinché cessi il suo digiuno, avendo finalmente egli rimesso nelle vostre sante mani i problemi che non gli danno pace proprio per quella passione, quell'ansia e quella audacia della ricerca da voi stessa Santità auspicata nell'enciclica. Lo chiedono assieme a me 460 anime piccole e grandi, credenti e noni, di cui a seguito è allegato l'elenco. Questa petizione scritta fu firmata da il Rettore della Madonna delle Grazie a Berceto e dai prevosti di Berceto, San Giorgio Martire di Irago e San Giovanni Evangelista di Urciago. Ebbene un altro si frappose al Papa che non si curò personalmente delle pecorelle e portò quel Pietro dove non voleva, sicché non ci fu neppure una diplomatica risposta data di cortesia che questo ingenuo morisse pure, visto che era lui che lo voleva. Era tanto ingenuo da credere che rischiando la sua vita avrebbe fatto qualcosa di attendibile. Doveva, per attrarre l'attenzione, se fosse stato meno bambino, doveva agire come fece Aliyah già e mettere al rischio l'importantissima vita del Papa. Solo allora avrebbe meritato attenzione. Ebbene un altro pedofilo di questo spaventoso stesso tipo si è frapposto anche a lei nel 2005 ed ha portato ora lei ad un abbandono mortale per questa povera pecorella smarrita che dichiarava di non mangiare se non era ricevuta nel suo greggio. Santità, buon pastore, se davvero lotta contro i peggiori pedofili che esistono, si decida ad incontrarti per ricevere dalle mie mani quel nuovo percorso che giustifica con la verità diretta quella che rende liberi davvero, quella annunciata da Gesù. Santità, le ragioni filosofiche e scientifiche di Gesù sono la base essenziale delle leggi fisiche che oggi regolano il mondo e sono ragionevolissime. Infatti se il mondo appare evolvere, elettricamente e magneticamente, ma solo sulla base dell'antimateria e del magnetismo che agiscono nel modo uguale e contrario di una creazione tutta in atto che rientri nello Spirito Santo di ciò che esiste solo in potenza, se questo è quello che è il divenire dell'apparenza, noi vediamo l'aspetto evolutivo di un atto che in verità sta già ora tornando a Dio. Non si può considerare solo l'evoluzione materiale che vediamo e ci porta alla fine, ma solo, possiamo farlo, sulla base relativa e sacrosanta nel suo esser vero di quel verso opposto dello Spirito Santo che ci riporta al puro e paterno principio di ogni cosa. Per poter capire la lezione data da Gesù a Nicodemo e che fu sacrosanta occorre l'attuale competenza scientifica. Non si può lasciare l'interpretazione di questa lezione sacrosanta ad una umanità che non faccia tesoro dei doni di scienza fatti all'uomo da Dio in 2000 anni di cristianesimo. Si può avere la sacrosanta certezza che la morte è solo il principio di una vita opposta ed eterna, giacché proprio opposta ad una ben definita e delimitata da una morte. Noi ci stiamo allontanando da Dio con la visione della materia, vista muoversi nel verso opposto allo Spirito, perché essa è pienamente coerente all'essere di uno Spirito Santo che già ora è risorto dalla morte e già ora sta tornando a Dio. Noi possiamo vedere il mondo in azione grazie all'azione uguale e contraria di un mondo che sta tornando tutto a Dio e questa santità è la verità che salva ogni cosa e toglie ogni possibile confusione alla interpretazione della nostra pura essenza. Santità, mi diceva, queste cose vanno meditate. Se fossero molto facili da capire e immediate sarebbero state già capite. Occorre un po' di valutazione scientifica.